Proseguiamo con il prossimo speech e abbiamo recuperato la dottoressa Brunetto, Paola Brunetto responsabile della business unit idrogeno, Enel Green Power, salve dottoressa Brunetto, il titolo del suo intervento l'idrogeno verde come complemento all'elettrificazione nella transizione energetica, prego. Grazie, grazie per l'invito, mi scuso per non essere venuta lì in presenza e anche per il disguido, purtroppo avevo avuto un'informazione diversa sull'inizio dell'intervento, però per fortuna con il collega di Eni siamo riusciti a spostare il mio intervento con il suo. E allora, io non so se vedete il mio schermo, posso procedere? Lo vediamo. Benissimo, grazie. E allora, diciamo, volevo giusto dare qualche numero sull'idrogeno, anche se già se ne è parlato appunto con il collega di Eni. L'idrogeno che è l'elemento più comune nell'universo, ma anche sulla Terra, solo che non lo troviamo mai da solo, lo troviamo sempre legato ad altri elementi e proprio per questo l'idrogeno è considerato un vettore energetico e non una fonte di energia, esattamente come l'energia elettrica. Quindi per produrre l'idrogeno, quindi l'idrogeno lo dobbiamo produrre, non esiste in natura. Quindi il metodo di produzione dell'idrogeno è decisivo e chiaramente è fondamentale ai fini poi degli impatti che questo può avere sull'ambiente. Idrogeno, un chilo di idrogeno che equivale a circa 33,3 kilowattora di energia, più o meno è l'energia che un impianto fotovoltaico da 5 kilowatt può produrre durante una giornata estiva. Quindi è un elemento che ha un'elevatissima densità di massa per unità di peso, però ha il problema di avere una bassissima densità di volume, infatti occupa tanto spazio. Un chilogrammo di idrogeno infatti occupa 11 metri cubi in condizioni standard, ma la cosa importante dell'idrogeno è come viene prodotto. Oggi viene prodotto, lo diceva pure prima il collega, a partire dal gas naturale o a partire dal carbone con emissioni elevate, perché già l'idrogeno oggi si utilizza, se ne utilizzano 90 milioni di tonnellate all'anno e le emissioni legate alla produzione dell'idrogeno corrispondono alle emissioni dell'Indonesia e del Regno Unito messi insieme. Quello che bisogna fare è produrre quest'idrogeno in maniera pulita e come? O qualcuno appunto si parla di idrogeno blu, quindi catturando la CO2 prodotta nel processo di sim e da reforming, quindi l'idrogeno grigio si associa alla CCS e si produce, quindi si cattura questa CO2 e quindi si riducono le emissioni, oppure produrlo direttamente senza emissioni, perché è possibile e come? A partire dall'acqua si separa la molecola dell'acqua H2O in idrogeno e ossigeno fornendo energia elettrica, quindi attraverso il metodo dell'elettrolisi, se l'energia elettrica utilizzata è energia rinnovabile abbiamo l'idrogeno verde, se l'energia elettrica utilizzata è energia nucleare ad esempio potremmo avere l'idrogeno cosiddetto rosa, ma a cosa punta Enel fondamentalmente? Enel punta soltanto all'idrogeno verde che appunto riteniamo essere l'unico idrogeno sostenibile, perché? Perché come dicevo prima è quello che viene diciamo si produce idrogeno senza generare alcuna CO2, ha una configurazione abbastanza semplice, immaginate un impianto rinnovabile, un elettrolizzatore, quindi diciamo due elettro che separano l'acqua in idrogeno e ossigeno, non ha appunto impatti dal punto di vista ambientale della sicurezza e riteniamo possa essere la soluzione più economica già al 2030, come un po' lo anticipava sempre prima il collega, sicuramente andando a ridurre i costi, il CAPES, quindi gli investimenti sugli impianti di elettrolisi, perché oggi gli elettrolizzatori non sono prodotti su larga scala, quando ciò avverrà sicuramente diciamo i costi scenderanno, in più l'altra cosa fondamentale per ridurre i costi di produzione di idrogeno verde è sicuramente l'innovazione che dovrà portare a un incremento di efficienza degli elettrolizzatori, quindi a parità di idrogeno prodotto si userà meno energia elettrica in ingresso e questo chiaramente contribuirà a ridurre i costi. Quindi diciamo idrogeno verde e da qui al 2030 probabilmente riusciremo a farlo diventare competitivo, nel transitorio sono necessari dei supporti, quindi un framework regolatorio che in qualche modo stimoli la produzione di idrogeno verde e l'uso di idrogeno verde. Il collega faceva riferimento all'esempio degli Stati Uniti, io faccio riferimento anche a quanto approvato ad agosto, il collega faceva riferimento al Regno Unito scusate, io faccio riferimento agli Stati Uniti, in particolare all'interno dell'Inflation Reduction Act è stato approvato un incentivo alla produzione di idrogeno verde, di idrogeno pulito e quindi per ogni chilogrammo di idrogeno prodotto chi lo produce riceverà un contributo che renderà quindi tenderà a chiudere il gap tra costi di produzione e costi che invece gli off-take sono disposti a pagare. Ma la cosa importante è che ci teniamo a sottolineare è che l'idrogeno è un bene scarso e prezioso che quindi va utilizzato solo dove è la soluzione più efficiente di decarbonizzazione. Quindi in questa slide faccio vedere quali sono gli usi in cui effettivamente l'idrogeno non è la soluzione per la decarbonizzazione. Ad esempio il settore di immagazzinamento dell'energia elettrica a breve termine non è efficiente utilizzare l'idrogeno per questo scopo in quanto utilizzare le batterie è molto più efficiente, parliamo di un'efficienza del circa 85% delle batterie mentre nel caso dell'idrogeno abbiamo un'efficienza di circa il 30%, quindi circa tre volte di più è più efficiente di conservare e immagazzinare l'energia in batterie che attraverso l'idrogeno. Sulla mobilità, più o meno i numeri sono pressoché i stessi, nel caso delle macchine elettriche abbiamo un'efficienza che oscilla tra il 77% e l'81% e sono già una realtà, nel caso invece dell'idrogeno andiamo a un'efficienza che va da 33% al 42% e quindi diciamo circa due volte e mezzo in meno rispetto al caso dell'elettrico, quindi anche in questo caso nella mobilità probabilmente non ha senso utilizzare idrogeno. Oppure anche nel caso del riscaldamento nelle abitazioni esistono pompe di calore ad alta efficienza che sono 5, anche più di 5 volte più efficienti di eventuali caldaie a idrogeno. Quindi questi settori, settori in cui l'elettrificazione è possibile, deve essere la strada maestra rispetto all'utilizzo dell'idrogeno e quindi l'idrogeno dove lo dobbiamo utilizzare? L'idrogeno lo dobbiamo utilizzare in quei settori cosiddetti Artoabate che utilizzano o l'idrogeno come materia prima o lo utilizzano per produrre calore ad elevatissime temperature o nel caso di trasporto a lunga percorrenza dove l'elettrificazione non è possibile e questi settori sono responsabili di oltre il 30% delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, quindi comunque c'è tanto, l'idrogeno ha tanti settori in cui può essere utilizzato, quindi i mercati veramente molto molto grandi. E come quindi lo possiamo utilizzare l'idrogeno? O puro, ad esempio dove viene utilizzato come materia prima o per produrre calore ad alta temperatura utilizziamo l'idrogeno nella sua forma di gas, quindi H2, oppure lo possiamo combinare o con l'azoto o col carbonio e quindi produrre i fuel o ammoniaca verde e quindi utilizzarlo ad esempio nel settore dell'aviazione o nel settore del trasporto maritmo in questa forma, quindi diciamo come derivato dell'idrogeno verde. Quali sono gli obiettivi di Enel? Gli obiettivi di Enel sono quelli di offrire ai nostri clienti una offerta completa di decarbonizzazione e quindi accompagnare l'elettrificazione supportata dalle rinnovabili con la fornitura di idrogeno verde nei settori in cui l'elettrificazione non è possibile e diciamo abbiamo l'obiettivo di installare al 2030 oltre 3 gigawatt di elettronizzatori appunto con questo obiettivo di diciamo offrire un pacchetto completo di decarbonizzazione ai clienti industriali. I modelli di business con cui diciamo vorremmo realizzare l'idrogeno sono questi che vedete diciamo nella slide, sono fondamentalmente tre ma insomma sono flessibili rispetto alle esigenze dei clienti e rispetto quindi alle esigenze, alla risorsa rinnovabile e ai spazi a disposizione diciamo dei nostri possibili diciamo clienti. Quindi potremmo avere l'elettroizzatore in prossimità del punto del consumo, quindi a casa diciamo del cliente è virtualmente collegato al rinnovabile che si trovano invece localizzati nelle zone a maggiore risorsa eolica o diciamo solare e questa è la configurazione cosiddetta stand alone. Oppure potremmo localizzare l'elettrolizzatore in prossimità dell'impianto rinnovabile e quindi creare delle hydrogen valley in cui ci sono rinnovabili, elettrolizzatore, produzione di idrogeno che poi viene distribuito in prossimità ai clienti diciamo a vari clienti che si trovano a distanza dalle decine, centinaia massimo di chilometri dal punto di produzione. Oppure una combinazione di queste due configurazioni, quindi rinnovabili parzialmente prodotte in sito a casa diciamo dell'off-taker dove è anche localizzato l'elettrolizzatore che però in parte preleva anche energia elettrica dalla rete collegato virtualmente ad altre rinnovabili invece che sono localizzate dove c'è maggiore risorsa rinnovabile. Quindi a seconda delle esigenze del cliente e a seconda anche della risorsa rinnovabile a disposizione in prossimità del punto di consumo si può decidere qual è il migliore business model da adottare. Grazie dottoressa Brunetto perché dobbiamo andare avanti con gli altri speech quindi mi dispiace interromperla. Va bene, avevo concluso, volevo solo far vedere i progetti di Enel sono progetti diciamo in cui già abbiamo gli off-taker definiti abbiamo in qualche modo anche chiuso il parte o totalmente il funding gap per produrre l'idrogeno verde perché sono stati diciamo in qualche modo approvati in una seconda diciamo in vari programmi europei o anche internazionali e concludo qui dicendo che già quest'anno produrremo il primo stiamo già costruendo un impianto di produzione di idrogeno verde e entrerà in esercizio alla fine dell'anno in Cile. Grazie mille, grazie. Le è arrivato l'applauso dalla nostra platea? Sì, grazie mille, grazie a tutti. Buona giornata. Proseguiamo con il prossimo inter...